Ad Agropoli il Capodanno si festeggia in piazza a Cogli Stadio. Il noto gruppo musicale italiano si esibirà infatti in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli il 1 gennaio alle ore 21. Il tradizionale concerto di Capodanno è promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri e inoltre ospiterà anche la presenza di Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 2015. Anche quest'anno festeggeremo l'arrivo del nuovo anno con l'ormai tradizionale concerto di Capodanno, afferma il primo cittadino Franco Alfieri. Per il 2016 avremo l'onore di ospitare uno dei gruppi più apprezzati del panorama musicale italiano, sicuri che richiamerà un pubblico importante e numeroso. Manca poco dunque all'annuale appuntamento per condividere con i cittadini e i turisti l'inizio del nuovo anno all'insegna della speranza e del sorriso. La pop rock band d'autore della musica italiana riproporrà ai grandi classici dell'importante discografia e presenterà al pubblico agropolese i nuovi successi. Inoltre la storica band di Gaetano Curreri ha annunciato la partecipazione del gruppo alla 66esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo nella sezione Campioni, con il brano Un giorno mi dirai. Prima del concerto salirà sul palco l'agropolese Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14, che sarà omaggiata dall'amministrazione comunale e dal sindaco Franco Alfieri. L'evento sarà realizzato in collaborazione con la provincia di Salerno, a sua volta finanziato dalla regione Campania con fondi PAC, che ha voluto affiancare l'amministrazione comunale in uno degli appuntamenti più attesi a livello regionale.